Bravi, bravi, i maestri, bravi ragazzi, ed è il terzo classificato all'istituto, con punteggio veramente alto alto, 95 su 100, l'istituto L. Da Vinci. Bravi, bravi, bravi. Il premio, 300 euro. E una data. E poi, come la tradizione di San Revo, c'è il secondo classificato. Allora, il secondo classificato è, per un voto, un punteggio veramente ancora più alto, 98 su 100, quindi bravi, 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 la scuola media Moneta di Marciano. Marisa! 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 Adesso, per il premio numero 22, primo premio per mille euro di valore, con la targa, il bacio accademico. La scuola media statale Vettorelli di Barca. Ringraziamo tutti gli artisti e tutti i ragazzi, come diceva il maestro Battista. La testa è stata musicale, prima di tutto, bravi, continuate così. Adesso, due parole di conclusione dall'assessore Lanzaro Nomeghini. Ringrazio vivamente la commissione, un grande applauso perché ha lavorato bene, soprattutto. Grazie, grazie, grandi professionisti, grandi musicisti. Grazie.